Molte cose sono cambiate in questo weekend, ma una cosa è certa, questa no ragazzi, cioè la moneta. La moneta ci ha preso proprio di brutto nelle ultime volte e quindi oggi apriamo il video proprio solo con il lancio della moneta che vediamo che cosa ci dice, incrociate le dita ragazzi per favore, ragazzi, c'è niente da fare, continuo a dire, di scegliere. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Mannaggia, la moneta ancora ci ha dato segnale negativo ancora una volta. Che cosa sta succedendo nei mercati delle criptovalute, ma anche nei mercati classici in generale? Oggi un video di analisi, veramente tante cose che dobbiamo andare a visionare, tante cose che dobbiamo andare a vedere anche sulle altcoin. Non è solo bitcoin, ho fatto già il mio elenco di tante roba che dobbiamo guardare. Guarderemo anche Nasdaq 100, bitcoin, alcuni altcoin, ethereum, analisi ciclica, focus, tutto su quello che è l'attuale momento. E poi volevo comunque ringraziare tutti quanti per il video di ieri, ragazzi. Domenica, un video importante, ho fatto un video sui bias cognitivi, sta andando benissimo, veramente stravisto da tutti quanti. Io volevo ringraziarvi tutti perché non ve lo aspettavo, era un video tecnico quello lì. Io di solito mi aspetto meno views per i video tecnici, video importanti, quello che funziona, perché YouTube è un po' una piattaforma di intrattenimento. Quindi a volte quando fai il dissing, fai l'offcase, eccetera, fai molte views. Quando fai video tanto tecnici, no, ok, si sta. Invece no, un botto di views, quindi grazie ragazzi, veramente, di cuore a tutti quanti. È un video molto importante, fatte nel tesoro. Molti di voi mi hanno scritto, Mauro, in video come quelli del corso Basic. Sì, assolutamente, è come se fosse un video del corso perché ci tenevo a dire determinate cose. Ogni tanto, ragazzi, è anche giusto questo tipo di ragionamento perché siamo in un momento molto particolare del settore delle criptovalute e secondo me interessante. In particolare oggi vi faccio vedere anche questo grafico di cui ne parliamo mercoledì in maniera approfondita ma che lancia un po' tutto quello che ci siamo detti in questi ultimi giorni. Cioè lancia in pratica il concetto della dip che stavamo attendendo sulle altcoin in particolar modo prima di andare eventualmente a fare dei buy interessanti. Perché? Perché la struttura di questo grafico, che è un grafico che è stato creato facendo la Total Market Cap delle criptovalute è escluso a Bitcoin e Ethereum e anche le stablecoin. Quindi è un grafico dedicato esclusivamente a tutte le cripto. Certo, all'interno ci sono anche il ciarpame colossale di tutte le criptovalute, quelle più piccoline, eccetera. Però è interessante guardare il suo movimento. In pratica eravamo in attesa di una chiusura di un ciclo annuale ed è così che sta avvenendo. Quindi probabilmente siamo nella fase di chiusura del ciclo annuale del settore delle altcoin e da lì, da lì che noi andiamo a dire, o la va o la spacca come si suol dire, noi dobbiamo caricare questa fase, i prossimi secondo me due, tre settimane, quattro settimane e andare a vedere quello che succede e da lì cercare i progetti interessanti, le cose più interessanti che ci sono, i grafici migliori, i team migliori, tante peculiarità che deve effettivamente avere un progetto prima di essere preso sotto i riflettori e poi da lì si possono fare grandi numeri. A tal proposito, ultima giornata oggi dell'ambito formativo di Trading On, ragazzi, con il corso Basic 2.0, con l'aggiunta, tra le altre cose, della Academy. Importantissima in questo contesto perché dovete passare i prossimi sei mesi, almeno un annetto circa, insieme, tutti insieme, perché è necessario stare insieme in un contesto del genere e cercare di cavalcare facendo meno errori possibili, proprio gli eventuali trend che dovrebbero arrivare nei prossimi mesi. Per me è interessantissimo, il grafico di riferimento è questo, ve l'ho fatto vedere, quindi è importantissima questa questione qui, ragazzi. Allora, ultime sei ore, poi l'offerta se ne va, vi assicuro, è peccato non utilizzarla, formatevi in questa fase, tra le altre cose c'è anche una super offerta aggiuntiva perché BitGet ci ha dato un bonus da 100 dollari per tutti i corsisti che si iscrivono dal mio link a BitGet e in questo contesto, in pratica, oltre allo sconto che vedete riportato, avete 100 dollari in meno perché BitGet vi rimborsa 100 dollari sul conto e questo è molto simpatico. Diciamo, basta che ci inviate poi una mail, inviate una mail al Trading On con l'acquisto che avete fatto e vi girano i link di BitGet e poi ci serve Luigi e Tam avete il bonus, quindi interessante questa cosa. Allora ragazzi, ieri abbiamo parlato anche tanto dei bias, di come non fare errori in un contesto del genere, ci sono anche altri tips che io volevo darvi, come per esempio evitare di cadere in over trading durante queste fasi perché è molto semplice per esempio andare in over trading quando ci sono le fasi di cadute, moltissimi iniziano a fare operazioni, dicono ah ho sbagliato questo, ho sbagliato quello, ho sbagliato quell'altro, tutto questo modo di pensare è negativo, poi è anche errato andare a cercare per esempio nel canale YouTube una serie di informazioni per avere conferme delle vostre scelte passate se state facendo questo avete bisogno di ragionare molto perché rischiate di avere poi, di insomma ascoltare analisti tra virgolette o chi magari ha poca esperienza, diciamo così, sui mercati e un po' diventa forbiante quel messaggio, quindi lì bisogna cercare di focalizzarsi su tutto ciò che effettivamente ha molte più basi solide perché magari è un ragionamento costruito su analisi da professionisti eccetera ma anche perché in linea di massima devono essere oggettive quel tipo di analisi quindi non vi fate diciamo un po' girare dal bias cognitivo della ricerca delle informazioni che confermano la vostra posizione quindi il confirmation bias perché in un contesto del genere c'è molto pericolo che avvenga una roba così. Allora ragazzi ultimi posti, sei ore rimaste imperdibile l'offerta Trading On vi lascio il link come sempre in descrizione vi ringrazio per tutto l'affetto poi saremo tutti insieme a cercare di fare questa roba tra le altre cose io proprio in un contesto del genere vorrei andare a inserire un po' di acquisti proprio sulle altcoin per rimpinguare il portafoglio di accumulo che vi ho mostrato nei precedenti video andando a inserire anche alcune chicche che sono già pronte vi faccio vedere alcune cose per esempio eccole qui allora queste sono tutte critto che erano sotto i miei riflettori e alcune di queste stanno andando a fare delle cosette interessanti e hanno dei cicli anche interessanti sono ovviamente tante io poi ne scelgo alcune e sicuramente lo faremo prossimamente tra le altre cose in Academy ragazzi proprio pomeriggio tra poco lanceremo per la prima volta il token della nostra Academy ancora in beta test a cosa serve? servirà a dare un airdrop a tutti i presenti all'interno dell'Academy tutti gli iscritti che riceveranno questi token in airdrop e potranno utilizzarli all'interno della nostra Academy per fare tante cose al momento ci sarà il bonus i premi dati a chi si aiuta a chi pubblica analisi interessanti eccetera e questo è molto bello ma poi ci saranno scontistiche partecipazioni a competition a libri tutto quello che riguarda anche gadget magliette quant'altro una cosa molto bella che stiamo facendo veramente da tanto tempo e non è la sola perché c'è anche la seconda versione poi l'NFT che sta già pronto di realtà però faremo gli step quindi prima questa roba quindi questo video lo sto registrando prima di registrare quello dell'Academy ma stasera in Academy lanciamo anche per la prima volta il nostro token e andremo a vedere un po' quello che succede allora guardiamo un po' di cosette interessantissime Bitcoin questione ciclica all'analisi è veramente molto importante in questa fase 24 giorni ciclo mensile di Bitcoin stato chiuso qui è un po' corto sì o no? come stiamo dentro con la questione legata ai precedenti cicli qui avevamo 31 qui avevamo 24 qui avevamo 26 qui avevamo 24 ora c'è anche un'altra questione c'è la questione della possibilità di un ciclo più grande che si chiama ciclo trimestrale con 81 giorni allora è possibile che il trimestrale si sia chiuso in un frangente del genere oppure che noi siamo ancora su invece una struttura differente una specie di trimestrale lungo che deve arrivare a 105 giorni a 100 giorni circa e quindi ai primi di maggio queste informazioni sono le più importanti in un contesto del genere perché daranno la risposta a tutto quello che succede nella prossima settimana perché se siamo alla chiusura di un ciclo trimestrale di Bitcoin da qui a tra un po', 1-2 giorni massimo riprendiamo la via del rialzo altrimenti siamo nel ciclo trimestrale lungo e in un contesto del genere bisognerà attendere i primi di maggio quindi ci sono ancora 15 giorni a disposizione lo sviluppo di questo movimento è tutto delegato a questo ciclo iniziato in un questo punto qui, cioè sul minimo dello sciacquone di sabato 13 di aprile che è circa 61.000 prezzi Bitstamp che deve andare a svilupparsi se questo ciclo perdura di più di 7 giorni in un contesto del genere per me qui sarà iniziato un altro movimento da circa 24-25 giorni e che porterà esattamente alla chiusura di un maxi ciclo da circa 105 giorni probabilmente intorno ai 100 giorni facendo una cosetta di questo tipo secondo me allora questa logica qui è per me la più un po' principale diciamo così cioè quella che secondo me per una serie di indicatori ragazzi allora io qui vi parlo però dietro ci sono due trading system che stanno ragionando che mi danno informazioni su questa cosa più 8 grafici con degli indicatori precisi di lungo periodo che mi hanno dato segnali negativi ora questa cosa qui in un contesto del genere su Bitcoin io la prendo in considerazione ma sono anche gli errori che fanno le mie strategie quindi conosco i difetti di quelle strategie ah si possono sistemare non si possono sistemare perché se noi proviamo a sistemarle andiamo a creare un disagio alla strategia nell'intero e quindi in pratica non funzionerebbe poi in futuro invece è meglio semplicemente conoscerle e gestirle in maniera discrezionale questa è una cosa che poi si impara dopo 20 anni insomma che fate quella roba là va bene imparate che non c'è strada proprio sembra che c'è ma non c'è mai mannaggia vabbè allora questa cosa qua poi magari qualcuno la trova ragazzi qualcuno la trova mandatemi un messaggio se l'avete trovata però mi raccomando con 20 anni dietro le spalle prima allora detto questo concettualmente è così questa per me è più probabile come view perché è una view che si va da sposare si va a sposare anche con un'altra questione ed è questa qui cioè la questione legata a Nasdaq perché Nasdaq è in chiusura di una fase ciclica che probabilmente consiste in un semestrale e che teoricamente potrebbe avere la sua struttura di minimo proprio in verso fine aprile i primi di maggio cioè è come se sta andando in pratica ad allungare questa cosa sta facendo una specie di trimestrale anche qui che potrebbe portare ad una fase ribassista per me è molto delicata questa fase qua di Nasdaq perché guardate dove siamo siamo su una barra di congestione palese i mercati sono da sempre i mercati classici sono in bolla speculativa quindi tutti si aspettano una fase di diciamo un po' ritorno dei valori fondamentali dei mercati per esempio il price to earnings il PE in versione un po' più standard quello che abbiamo avuto negli ultimi dieci anni è troppo alto configurazione negativa per i prossimi anni quindi nel medio lungo periodo sarebbe negativo per investitori attuali quindi se siete investitori attuali per noi per tutti quelli che investono in questo momento un ribasso dei mercati classici è assolutamente cosa buona e giusta cioè sarebbe assolutamente la cosa migliore che ci può capitare per il lungo periodo questo è insomma sembra strano una contraddizione ma non è così perché i mercati attuali classici sono estremamente alti in termini di valutazione di natura fondamentale questo implica che una fase di bassista può essere anche un pochettino più cattivella e se noi ragioniamo in questo modo abbiamo anche un altro dato che dobbiamo andare a guardare che è questo qui ed è il grafico ragazzi della grafico dei titoli di stato americano vi faccio vedere il decennale che era questo allora il decennale dei titoli di stato americano sancisce che c'è stata una ripresa del rendimento e questo implica una sola cosa una ed una sola cosa in pratica non ci sarà il ribasso dei tassi di interesse che tanto era atteso da maggio in poi questo è il discorso perché perché l'inflazione non è così sotto controllo come voleva dimostrare in pratica i tassi sono forse ancora addirittura bassi e vengono mantenuti in questo modo in questo modo e lo saranno probabilmente per più mesi questo ha implicato un rialzo anche del decennale e il rendimento del decennale americano è tornato a salire dopo una fase di ribasso ora io non credo che andrà al di sopra di questo livello ma potrebbe fare anche un doppio massimo perché da un punto di vista anche degli amanti a struttura ciclica si sta vedendo il cosiddetta creazione di questa fase quindi che nel medio lungo periodo i tassi poi siano previsti in fase di discesa io ne sono consapevole ma qui in questo punto siamo al 2026 ragazzi quindi giusto per farvi comprendere il discorso probabilmente i mercati classici stanno anche rallentando proprio in vista della questione che quella immissione di liquidità dovuta all'allentamento dei tassi non ci sarà nell'immediato e c'è stata una previsione non corretta e quindi magari si vanno a riallineare a queste cose da un punto di vista ciclico impatterà anche su bitcoin e questo lo dovremmo tenere in considerazione ora importantissimo andare a guardare queste cose intanto l'analisi delle close questo mensile che è iniziato qui io me lo aspettavo ribassista quindi se questo mensile diventa ribassista entro breve con una roba del genere almeno in chiusura allora io posso tenere in considerazione il concetto che si possa essere in una chiusura trimestrale ora subito e che quindi poi inizia un nuovo trimestrale se invece allunghiamo i tempi di ribasso e non andiamo a scendere per i prossimi due tre giorni allora io sono più predisposto per il fatto che qui sia iniziato un nuovo movimento mensile che dovrebbe essere debole e fare una roba del genere quindi questa view è quella che io a cui io do 55-60% di probabilità ma se nei prossimi due tre giorni scendiamo subito al di sotto di questa fase e quindi domani dopo domani andiamo a fare una roba del genere allora in questo contesto e solo in questo contesto io potrei valutare un trimestrale in chiusura anche su bitcoin intorno agli 89-90 giorni quindi teoricamente intorno alla fine di questa settimana barra inizio della prossima allora in un modo o nell'altro sarà da monitorare questa fase quindi i prossimi giorni fino a mercoledì sono importantissimi in questo contesto e assolutamente non potete esimervi dal valutarli andiamo a vedere anche la questione di ETH perché Ethereum è assolutamente in una fase interessante anche lui in chiusura di un trimestrale palese però 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 questo minimo basta per Ethereum ad aver chiuso il trimestrale guardate tra le altre cose come la magia della ciclica e scusatemi il termine sapete che io scherzo su queste cose ovviamente non è magia però è il concetto del dire l'uovo la gallina è la stessa cosa è il mercato che si adegua ai cicli con news assurdo pensare così ragazzi lo so però io la ciclica la seguo da vent'anni e vi assicuro che a volte mi ha lasciato anche a me un po' stupito no così oppure siamo noi che poi guardiamo le cose e vediamo simboli dove non ci sono le famose figure nelle nuvole e questo ragazzi è un po' la risposta che non esiste non esisterà probabilmente mai no prima l'uovo la gallina ci interessa poco a noi ci interessa operare quindi lo usiamo a livello di strategia però è interessante ogni tanto ragionare allora questo grafico così come lo vedete era già impostato così io me lo sono trovato questa mattina in questo modo perché avevo già impostato i cicli in questo modo ragazzi quindi questo minimo vale come ciclo allora anche qui la continua la gli 81 giorni di eth secondo me sono da valutare però è anche è anche corretto dire che intanto bisogna avere conferme di un movimento di rimbalzo è vero che tino ma ha salito un po' di più in questi due giorni rispetto a bitcoin però è anche vero che non abbiamo ancora dati perché qui possiamo tranquillamente allungare l'ultimo in precedenza era 100 quindi insomma possiamo tranquillamente andare avanti poi ci sarebbe anche l'idea della comprensione se effettivamente questo movimento va a chiudere un annuale e un semestrale di ethereum allora a quel punto attenzione perché il semestrale di eth potrebbe essere più lungo di questo io qui avevo impostato 184 giorni ma è un semestrale molto corto così perché possiamo andare con grande tranquillità fino a giugno allora se questa cosa avviene allora è probabile che anche questo trimestrale che si è iniziato sarà negativo per eth e fare una cosa del genere tra le altre cose questo tipo di concetto non si sposa neanche male con quest'altro grafico che vi vado a mostrare cioè il grafico del dominance di bitcoin escluse le stable coin che ha iniziato un nuovo ciclo annuale in questo punto e quindi ha bisogno in sostanza di una perdita di forza relativa ancora una volta da parte della regina delle cripto quindi ethereum in pratica in sostanza cosa vi sto dicendo prima risolviamo il problema del trimestrale di bitcoin e arriviamo fino alla fine di questa settimana per capire un po' meglio le carte se va come la ipotesi principale quella che vi ho indicato qui cioè questa ipotesi qui allora possiamo addirittura assistere a una roba del genere e ci vorrà i primi di maggio se siamo ai primi di maggio a quel punto molti di voi diranno che bitcoin potrebbe semplicemente fare poi l'ultimo ciclo mensile di questa struttura qui e andare fino a giugno a chiudere la sua struttura di ciclo annuale facendo una cosa del centro allora questo discorso qui è da prendere in considerazione quindi secondo me per essere in ordine primo punto da andare a definire i prossimi tre giorni vedere se va a fondo subito può essere un trimestrale poi ne inizia un altro quindi magari abbiamo una ripresa di fiato per qualche giorno e potrebbe non essere male va bene che poi sia duratura io ho i miei dubbi ve lo dico in maniera chiara però vediamo vediamo perché c'è possibilità ancora una volta se invece perdura una fase di rimbalzo come quella attuale non scendiamo sotto i minimi e non abbiamo né forza e né debolezza siamo in trading range allora probabilmente siamo nella ipotesi che vi dicevo cioè siamo nel nuovo mensile che andrà poi a chiudere questo ciclo al cui mancherebbe però poi solo un altro mensile per chiudere l'annuale quindi è improbabile che troncherebbe l'annuale è molto più probabile che bitcoin andrà a chiudere l'annuale e contestualmente avremmo quindi anche un movimento di eth che va a chiudere un semestrale costruito in questo modo ed è proprio lì questo punto e in quella fase che noi dobbiamo andare a mettere la nostra la nostra puntata è quello il punto che ci interessa tra maggio giugno questa finestra temporale dove bisogna essere iper preparati iper formati iper studiati tra virgolette per andare a cercare di mettere la manina il momento propizio passerà più veloce di un aereo ragazzi quindi o ci state prima o non lo vediamo nessuno di noi questo è difficile da fare per tutti ve lo garantisco anche per chi ha skills veramente da tanti anni figuriamoci chi non le ha è secondo me impossibile poi sono pronto ad essere sbalordito se qualcuno di voi ci riesce senza aver mai letto un libro mai avuto una formazione a fare una roba del genere soprattutto nelle altcoin che sono veramente difficilissime ok va bene anche la strategia del pack ma dove? su quale altcoin e poi attenzione al pack perché quando andate a restringere i tempi e quindi dite faccio un pack da qui fino a giugno può essere funzionante può essere può funzionare però è pericoloso perché avendo tempi molto ristretti potrebbe non far bene il suo lavoro che è quello di mediare il prezzo di acquisto e quindi magari siete entrati troppo presto poi crolla in maniera veloce non avete altri ingressi da fare e quindi i prezzi medi sono troppo alti e questo potrebbe essere difficile comunque meglio che niente assolutamente piano d'accumulo da qui a giugno ok quindi meglio di quello diciamo meglio di non fare niente c'è sicuro quindi caso mai abbiate insomma potete avere quella strategia per chi invece volesse di più come sempre ragazzi io ve lo ribadisco ultimi ore il corso di formazione è in iper offerte soprattutto vi aspettiamo in academy che sarà il posto più importante per i prossimi mesi anche per me non ve lo nascondo perché ragazzi è difficile anche per me stare sempre sul pezzo e tenere tutto aggiornato va bene vi ho detto un po' quello che penso in questa fase vediamo che cosa succede però ci siamo quasi mancano due tre giorni ad avere la visione molto più chiare e secondo me interessante vedere una cosa del genere poi c'è un concetto agli amanti della ciclica i cicli inversi l'annuale inverso di bitcoin c'è o non c'è ancora non ci ha dato conferma ma è andato così vicino incredibile non ci vuole dire la verità tra virgolette allora gli amanti dei cicli inversi sanno cosa di cosa sto parlando ed è interessante bella questa fase però ragazzi e quante opportunità si possono andare a ricavare in un momento del genere mi raccomando non vi fate buttare fuori dal mercato non vi spazientite non buttate la spugna fate come Rocky va bene fate come i grandi lottatori mettetevi lì in quelle fasi più difficili tirate fuori la cazzimma come si vuol dire ragazzi tiratela fuori studiate di più formatevi di più ragionate di più nervi saldi c'è tanta roba dove ci sono i rischi dove c'è volatilità dove c'è tensione sta arrivando la grande torta un bel un bel babà un bel babà grosso così di pieno di crema va bene ciao a tutti buon inizio settimana buon inizio settimana buon inizio settimana